Un patto per realizzare l'ecomuseo del Golfo di Gela. Lo hanno sottoscritto nei locali della Casa del Volontariato alcune associazioni che storicamente si occupano della difesa e della promozione dei beni culturali. L'ecomuseo è un'istituzione culturale che assicura in modo permanente su un territorio le funzioni di ricerca, presentazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita con la partecipazione della popolazione stessa. Un ecomuseo è un'istituzione che gestisce, studia, esplora con fini scientifici, educativi e culturali in genere il patrimonio globale di una certa comunità comprendente la totalità dell'ambiente naturale e culturale della comunità. È una forma museale che è stata stabilita da una legge regionale nella numero 16 del 2014 e la quale praticamente mira attraverso questo strumento a tutelare, valorizzare e promuovere l'identità di una comunità. Lei in più occasioni attraverso le interviste ha sottolineato che bisogna fare rete a Gela. Avete aperto un vero e proprio cantiere e a questa rete hanno adorito in merito proprio alla realizzazione dell'ecomuseo numerose associazioni. Sì, noi praticamente da qualche anno presso la Casa del Volontariato abbiamo il cantiere Gela. Il cantiere Gela è un insieme di associazioni che si occupano della rigenerazione urbana fare in modo che la comunità incomincia a progettare dal basso quindi portando avanti la cittadinanza attiva e promuovere tutte quelle cose che sono utili per la collettività. Noi praticamente abbiamo fatto un ragionamento per quanto riguarda questo ecomuseo e questa legge regionale che tra l'altro è uscita da pochissimo in quanto qualche mese fa c'è stato a Truina un convegno proprio sull'ecomuseo. Abbiamo visto la forza progettuale di questa legge e abbiamo pensato che sia uno strumento ideale per fare rigenerare questo territorio che ha grossi problemi da un punto di vista economico.